ciao è appena arrivato un pacco dolci preziosi ci sono le uova di pasco 2018 e vediamo che cosa esce pijamask glimmi lol surprise yoyo fatele vedere nella camera che non vedono niente eh la borghini bella questa la regaliamo a papà e per ultimo vinci dubai praticamente la dolci preziosi ha fatto che chi trova l'uovo di benten può partecipare per vincere un volo a dubai per quattro persone al beco compreso e basta che caricate la foto della vostra famiglia con l'uovo che vi farà vincere questo qua di benten e crociare le dita sperando di vincere siete rimasti contenti ragazzi sì sì ciao